Ciao a tutti ragazzi, in questo mio nuovo video vi mostrerò le potenzialità e l'uso del programma F-Tool. Chi fa il corso di ingegneria conosce sicuramente questo programma perché è molto utile per scienza delle costruzioni e tecniche delle costruzioni per andare a diagrammare gli sforzi sulle travi oppure sui solai. Il programma è scaricabile dal link che metterò in descrizione ed è possibile farlo partire direttamente cliccando su questa icona, non c'è necessità di installarlo. L'interfaccia che avremo è questa qui che è già pronta all'uso. Allora, vi faccio vedere come usarla. Mettiamo la Keyboard Mode, selezioniamo il nodo e andiamo a mettere le coordinate del nodo, semplicemente in questo modo. Quindi lo mettiamo il secondo punto dopo 2 metri, l'altro punto dopo 5 metri, sempre partendo dall'origine. Poi gli diamo un'altezza, un'altezza ad esempio di 1 metro, poi ritorniamo a 2 e poi 0. Ecco qui. Facciamo Cancell, usciamo dalla Keyboard Mode e selezioniamo Insert Member per andare a mettere le travi. Quindi facciamo così, così, così e così. Ecco la nostra struttura carina. Selezioniamo, mettiamo la selezione, la freccia, con la rotellina andiamo a ingrandire. Ed ecco qua. Poi iniziamo da Material Parameters, andiamo a mettere che materiale è. Facciamo Aggiungi Nuovo. Lo chiamiamo ad esempio CLS. Lasciamo Generic Isotropic. Facciamo Done. Lasciamo il coefficiente di Post On e il modulo di Young inalterati. In questo momento non ci servono. E facciamo Applica All. Poi, passiamo dopo. Andiamo a definire la sezione. Mettiamo una sezione, tipo Rettangolare. E andiamola a definire Rettangolare. Fatto. Molto importante è andare a dare una dimensione finita a questa sezione. Altrimenti l'inerzia è nulla e quindi anche gli sforzi sono nulli. Una volta fatto, andiamo a dare Applica All. Passiamo dopo. Ci sono i vincoli. Quindi, selezioniamo un nodo. Andiamo a mettere i vincoli in base alle reazioni vincolari che esplicano. Ad esempio, mettiamo un incastro che esplica tutte e tre le reazioni vincolari. Ed ecco qui. Qui voglio mettere un carrello. Quindi metto Free. E lascio fissato solamente la Y. Ed ecco qui un carrello. E qui invece voglio mettere un appoggio. Fisso X e Y e faccio Applica. Ecco qui. Poi, qui è per definire altri tipi di vincoli sulla trave. Questo per andare a definire le proprietà della trave, se è una trave rigida, se ha deformazione assiale, se è flessibile, se ha deformazione a taglio. Lasciamo tutto così com'è. Andiamo ad applicare le nodal force. Le forze nodali applicate. Andiamo ad esempio ad applicare una F lungo X. Abbiamo fatto una F X di 20 Kilo Newton. Andiamo a selezionare il nodo. E come sempre facciamo Applica. Ecco qui la nostra forza. Poi, noi vogliamo andare a mettere un'altra di qui. Mettiamo il segno M, cioè ne definiamo un'altra. F, la chiamiamo M, la F X. E la andiamo a dare M, la F X. Perché sta in quell'altra direzione. Ecco qui. Poi, qui se vogliamo andare ad applicare delle coppie lungo l'asta. E qui se vogliamo andare a mettere dei carichi. Facciamo nuova. Lo chiamiamo Q. Quanto vale questo Q lungo Y? Meno, perché è rivolto verso il basso. Meno 30 Kilo Newton. Selezioniamo l'asta. E facciamo Applica. Ne vogliamo definire un altro. Lo chiamiamo Q2. Di quanto lo facciamo? Meno 10. Selezioniamo l'asta. E facciamo Applica. Ecco qui la nostra struttura. Questo è se vogliamo andare a mettere dei carichi che sono lineari e non sono uniformemente distribuiti. Qui, delle deformazioni termiche. Ed è tutto. Cioè, questo serve. Ricordiamoci, una volta fatto questo, dobbiamo salvare necessariamente. Quindi lo chiamiamo, tipo, prova. L'avevo già salvato. Lo salviamo. Sì, lo stendiamo. Ed ecco qui. Una volta fatto, andiamo a vedere. L'axial force. Le forze assiali, quindi lo sforzo normale. Il taglio. Il momento. E le deformazioni. Ed ecco fatto. Questo è tutto. Altra cosa importante. Possiamo esportare questi diagrammi in DXF. Ma questo lo vedremo nel prossimo video. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale per i prossimi video. Ciao a tutti.